Armato di coltello ha fatto irruzione nel negozio di frutta e verdura e dopo aver minacciato la commessa si è fatto consegnare l'incasso del giorno, circa 400 euro. Rapina nel negozio Frutta del Sud di Via Vergerio, questa è la testimonianza del titolare. E' successo molto semplice che questo uomo con un cappello addosso vestito in nero si era nascosto all'altra bottega qua e ha aspettato che io mi sono allontanato e così ha visto che c'era la mia parente dentro alla mia attività che io mi sono allontanato per andare in bagno, lui è entrato con questo quartello e ha preso tutto il mio incasso che c'era dentro alla cassa. L'uomo armato di coltello sarebbe un italiano sulla Trentina, al momento della rapina indossava una maglietta scura e un paio di jeans. Sul posto è intervenuto personale della squadra volante e poi della squadra mobile della questura di Trieste che sta visionando le immagini delle telecamere del negozio. Non è escluso che si tratti dello stesso malvivente che nel giugno scorso aveva rapinato la tabaccheria che si trova a poca distanza dal negozio, sempre lungo la via Vergerio. Guarda che lo prendono perché la mia rabbia è che è ancora più forte di entrare con un'arma dentro a un piccolo botteghino e prendersi il nostro guadagno. Questo è tutto, che facciamo veramente sacrifici per andare avanti.